Mosè non entra nella logica della tangente, lui è con il popolo e lotta per il popolo e lo fa con la preghiera, costante e coraggiosa. Così Papa Francesco, nell'Omelia della Messa celebrata a Santa Marta, partendo dal dialogo tra Dio e il profeta, tratto dal libro dell'Esodo, il Pontefice rimarca che purtroppo nella vita quotidiana non sono rari i casi di dirigenti disposti a sacrificare l'impresa pur di vedere salvati i propri interessi. Mosè invece si rivolge al Signore con libertà, come un figlio, esprimendo tutto il proprio coinvolgimento per le sorti della propria gente. Niente tangente, io sono col popolo e sono con te. Questa è la preghiera di intercessione, una preghiera che argomenta, che ha il coraggio di dire in faccia al Signore, che è paziente. Ci vuole pazienza nella preghiera di intercessione. Noi non possiamo promettere a qualcuno di pregare per lui e poi finire la cosa con un Padre nostro, un Ave Maria, e andarmene. Ciao! 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 Grazie a tutti